Dopo gli incontri sulla formazione di rifiuti, oggi è stata la volta di Altra Energia, la terza edizione del forum per approfondire la discussione sulle prospettive di sviluppo per un futuro sostenibile nel Sagno. Il mondo delle istituzioni, delle università e dell'impresa si è dato appuntamento al Museo Arcos di Benevento per approfondire la situazione delle energie alternative nel Sagno e discutere sulla possibilità di attuare un modello di sviluppo territoriale che unisca rispetto dell'ambiente ed energie rinnovabili. Puntare sulla Green Economy è una sfida vincente per il Presidente della provincia di Benevento, Agnello Cimitile. La provincia ha puntato con decisione nell'ambito della Green Economy sul problema dell'energia e abbiamo fatto 860 gradi, cioè puntando sui problemi del risparmio energetico e dell'efficienza e quindi dell'ottimizzazione nell'uso di queste risorse, puntando sulle energie alternative e da fonti rinnovabili, puntando sulle infrastrutture di cui il settore dell'energia ha bisogno. Basti pensare per esempio alle reti di distribuzione soprattutto dell'energia prodotta da fonti alternative. Attraverso azioni di pianificazione, di efficientamento e la realizzazione di piccoli impianti, la provincia sta puntando a fare del Sagno un territorio ecosostenibile che valorizzi l'ambiente trasformandolo in una risorsa. In una congiuntura economica difficile come quella che stiamo vivendo, le energie rinnovabili si rivelano essere una scommessa vincente su cui puntare, in particolare nel Sagno, cintura verde della Regione Campania. L'energia verde è l'unico settore che continua a fatturare e a fine 2011 il fatturato per esempio del fotovoltaico raddoppierà rispetto a quello del 2010. È un miracolo che succede soltanto in questo settore, nonostante le grandi incertezze del Governo nazionale che ha cambiato per sei volte gli incentivi e che quindi dà continuamente poca certezza agli investitori. Puntare sulle energie alternative significa non solo tutelare il futuro del nostro habitat, ma anche creare un'opportunità di sviluppo per l'economia del Sagno, terra che più di tutte, Regione Campania, soffre per la carenza di investimenti e opportunità lavorative. Quello delle rinnovabili, guardando al futuro, sembra essere l'unico settore in espansione. Come testimonia l'esperienza della e-Dynamic Gyro Service Group, azienda che opera nel settore dell'eolico e rappresenta, grazie ai risultati che è riuscita a raggiungere, un'eccellenza ed un orgoglio per il Sagno. Prima tutto il know-how veniva dall'estero, noi abbiamo preso esempio, abbiamo migliorato e a tutt'oggi non solo lo facciamo in Italia, ma abbiamo esportato il nostro know-how anche all'estero. Abbiamo delle sedi in Spagna, in Romania e abbiamo aperto quest'anno in Sud America, in Cile e il prossimo obiettivo contiamo di aprire entro il mese di febbraio 2012 in Brasile la prima sede e chiudere entro la fine dell'anno con l'apertura di quattro sedi. I fondatori della e-Dynamic, Claudio Monteforte e Maurizio Panfilo Corvino, sono saniti doc. Loro hanno creduto nel potenziale di sviluppo delle energie rinnovabili e sono riusciti, grazie alla tenace e alla capacità imprenditoriale, ad espandersi in Europa e da poco anche in Sud America. Un'azienda che cresce non significa solo fatturato, ma anche posti di lavoro di cui nel Sagno c'è tanto bisogno. In un Sagno che soffre noi a tutt'oggi contiamo ancora 50 unità lavorative dirette, a busta paga per intenderci, a libro paga di Euroservice Group. Ci tengo a precisare che tutti i nostri dipendenti collaboratori sono tutti saniti, tutti della provincia di Benevento e invece per il resto del mondo contiamo un totale di 150 unità lavorative. Nata col nome di Euroservice Group per adeguarsi all'espansione internazionale, l'azienda di Claudio Monteforte si sta fermando sul mercato con un nuovo nome, quello di I-Dynamic. Per ogni società all'estero ha un nome diverso all'Euroservice Group, quindi per una questione di brand e di immagine da gennaio in tutto il mondo ci chiameremo con un solo nome che è I-Dynamic.